L'esercito romano era organizzato in legioni, unità militari di circa 5.000 uomini ciascuna. Ogni legione era suddivisa in 10 coorti, composte a loro volta da 6 centurie di 80 soldati. La centuria era guidata da un centurione. La cavalleria e le truppe ausiliarie completavano la forza militare. La struttura gerarchica vedeva al vertice il comandante della legione, seguito dai tribuni militari e dai centurioni. I legionari erano cittadini romani che si arruolavano per 25 anni. Indossavano un'armatura, un elmo, portavano uno scudo rettangolare e usavano il pilum, un giavellotto, e il gladius, una spada corta, come armi principali. La disciplina e l'addestramento erano rigorosi. Le legioni erano autosufficienti, con ingegneri e artigiani al seguito. Questa organizzazione rese l'esercito romano uno strumento estremamente efficace di conquista e naturalmente controllo dell'impero per secoli e secoli. Grazie! 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 Grazie!